Reparto d'onore, attenti! Reparto d'onore, presentat! Onori al primo ministro dello Stato d'Israele! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bandiera di guerra, musica d'ordinanza e reparto d'onore del primo reggimento granatieri di Sardegna. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti